Musica Dopo il vasto incendio del 6 agosto che ha interessato il verde di Calitri nella zona montana di Santo Maso il fuoco continua a divorare la montagna. Le immagini che state vedendo ci arrivano come contributo dal profilo Facebook di un residente e parlano chiaro. La zona colpita è località Farullo a bruciare Misto Pineta e incolto sul posto la squadra della comunità montana Uffita. Ma sono in arrivo anche i vigili del fuoco al genio civile. Un'altra giornata campale che vede sempre il verde irpino vittima delle lingue di fuoco. Ancora vigile la presenza sulla montagna di Montevergine nella zona delle antenne anche se la situazione non desta particolare preoccupazione. A Moschiano il genio civile ha chiesto l'elicottero ma i problemi si sono verificati anche per i pali Enel per il distacco della linea elettrica su Santa Cristina. Squadra anche a Tufo, Lapio e Caposele. Ancora aperto il fronte a Moschiano a Santa Cristina dove dalle 12.30 si sta operando con un Canadair. Lioni si aggiunge alla lista con Contrada Oppido. Alle 14 erano ben 11 i comuni interessati dal fuoco che non dà tregua. Ora si guarda in su e si aspettano le tanto annunciate piogge del weekend.